Visualizzi il modello e selezioni l'entità a cui associare gli hashtag BIM. Definisci i tag che identificano le proprietà degli oggetti selezionati. Copi gli hashtag BIM associati ad un altro modello. Utilizzi gli hashtag BIM copiati su un nuovo modello. Crea un hashtag BIM ed indichi il valore in seguito. Aggiungi il valore non assegnato in precedenza. Selezioni l'entità del modello tramite gli hashtag BIM. Aggiungi il valore.